A Teramo, dopo il via libera al bilancio, è polemica da parte del Movimento 5 Stelle che si è visto respingere sei emendamenti per bloccare i rincari su Scuolabus e Buonipasto con tagli ai compensi degli assessori e altre misure che permetterebbero di recuperare 100.000 euro tra novembre e dicembre. Le proposte non sono state accolte dall'amministrazione perché il bilancio non è modificabile dopo la scadenza del 30 settembre e il Movimento 5 Stelle parla di incapacità cronica di programmazione dell'amministrazione Brucchi. Noi abbiamo presentato degli emendamenti per fare dei tagli, dei tagli agli sprechi della politica e dei tagli all'indennità degli assessori e dei consiglieri comunali. Tutti e sei gli emendamenti ci sono stati respinti, quattro non ci sono stati proprio presentati in Consiglio Comunale per delle motivazioni assurde in quanto c'è stato detto che loro non potevano modificare delle tariffe. Gli ultimi due che proprio riguardavano il taglio delle indennità degli assessori invece sono stati completamente respinti dalla maggioranza. Noi chiedevamo il taglio del 30% dell'indennità sia di assessori che di consiglieri perché è il massimo che loro possono ovviamente prendere circa 1.800-1.900 euro netti per devolverli a fini sociali. C'è stato detto che assolutamente loro non avrebbero preso in considerazione alcuna proposta da parte del Movimento 5 Stelle. Inoltre c'è da dire un'altra cosa, che noi abbiamo detto che tutte le misure prese da questa amministrazione sono state prese fuori tempo utile in quanto abbiamo ribadito in aula che in città come Ragusa, amministrati dal Movimento 5 Stelle, città di 71.000 persone, la Tasi non si paga. Non si paga perché il sindaco e la sua giunta sono stati capaci di tagliare in tempo utile determinate risorse, determinati sprechi per non far gravare ulteriormente la Tasi sulle tasche dei cittadini. E quindi noi abbiamo detto al sindaco che lui e questa giunta sono stati completamente incompetenti a programmare e amministrare la cosa pubblica.